Da questa edizione ci aspettiamo il massimo della partecipazione per le gare internazionali che sono 176 partenti, non è possibile iscriverne di più, ci sono otto squadre straniere e qui abbiamo fatto un piccolissimo passo indietro rispetto a Anno perché abbiamo il problema della contemporaneità dei mondiali, però gli italiani, le continental ci sono tutti, abbiamo il campione austriaco, il campione italiano e quindi tutto sommato una partecipazione di alto livello.